Battesimo ufficiale, presentazione per coach Marco Andreazza, che è il nuovo allenatore della Pafoni Fugor Basket. Un ritorno al passato, credo che le motivazioni che hai trasmesso questa sera, ma nelle ultime settimane, siano davvero importanti Marco. Sì, credo che alla fine si giocherà tutto lì, perché come sempre la differenza la fa il cuore, la fa quello che uno riesce a creare durante la settimana, il gruppo di lavoro, la serenità con cui si lavora, sapendo che poi siamo giudicati dei risultati, però secondo me possiamo pensare, se tutto va come si stanno incastrando le cose, di avere un gruppo di lavoro veramente interessante. Che Pafoni vedranno i tifosi? Lo ribadisco, vedranno una Pafoni combattiva, vedranno una Pafoni pronta a buttare il cuore oltre l'ostacolo, che è quello che poi in questi campionati bisogna fare, speriamo anche di giocare una bella pallacanestro, che non guasta e soprattutto se si vuole arrivare avanti bisogna avere anche un po' di qualità, però sicuramente lo sai, le mie squadre dal punto di vista difensivo vogliono una squadra che morda, vogliono una squadra che dia una grandissima impronta, che poi è quella che ti aiuta a giocare meglio in attacco. Prima nella presentazione, nella prima intervista sui diretti social della società, hai ricordato tre persone che non ci sono più? Sì, sono tre persone con cui io avevo legato tantissimo, che sono Gino Beltrami, che sono Gian Paolo Bussoli e che sono Gigi Pruliti, tre persone che a modo loro sono state molto vicine a quella fulgor lì e sono sicuro che da su ci seguiranno ancora di più, adesso che sono tornato io e avremo tre tifosi in più. Anche perché sei tornato tu, da su un po' di protezione arriverà anche per la presenza di Don Angelo Nigro, Don, insomma, battesimo ufficiale con la tifoseria, in un evento particolare, e qui sta anche la risposta alla domanda che in tanti si sono fatti, perché hai accettato questo ruolo, questa sera la presentazione di Marco Andreazza serve anche per raccogliere fondi a favore di un ragazzo, Alessandro Viviano di Cannobbio. Sì, mi sembra che questa società rappresenti tanti valori in cui io credo e che sono la base anche del percorso personale e della mia scelta di vita. Saluto con affetto il nostro nuovo mister, perché credo che lui trasmetta a tutti noi, a parte la sua preparazione tecnico-tattica, che io non posso certamente influire o conoscere oltre quello che so, però ci trasmette questa carica, questa passione, questa serietà anche del lavoro, l'abbregazione, perché attraverso il lavoro, attraverso l'impegno, ciascuno di noi realizza anche se stesso in tante cose. Quindi questo nella società è presente da tanti anni, è presente soprattutto, e tu ne sai qualcosa più di me, anche tutta la parte di attenzione a chi soffre, di attenzione a chi ha bisogno, il canestro importante che cerchiamo di realizzare sul campo, poi cerchiamo di realizzarlo anche all'esterno, andando a dare una mano a chi davvero ha bisogno e credo che in questo la società sia davvero all'avanguardia.